Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è sabato 26 novembre 2022 questa è la rassegna stampa di Fano TV, leggiamo insieme i giornali vediamo le notizie di ieri, ieri era una giornata particolare quella dedicata alla violenza sulle donne, quindi contro la violenza sulle donne ci sono state tantissime manifestazioni e ci sono state anche delle figure simbolo di cui poi parleremo ed ora passiamo alle previsioni del tempo le previsioni del tempo passano oggi da una situazione piuttosto calma come quella di ieri a un temporale cieli molto nuvolosi e coperti al mattino con piogge rovesci assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata i venti sono tesi, il mare è mosso, le temperature oscillano tra i 9 e i 15 gradi il sole sorge alle 7 e 16 e tramonterà alle 16 e 35 ed ora vediamo qual è il santo del giorno vediamo se eccolo qua si tratta di San Leonardo da Porto Maurizio che è una località della Liguria San Leonardo da Porto Maurizio visse nel XVI secolo studiò a Roma nelle scuole dei Gesuiti poi si fece frate, francescano, sacerdote e fu un grande predicatore che girò in tutta Italia in tutte le regioni d'Italia e le sue prediche impressionavano veramente le folle tanto che anche il Papa ne fu veramente impressionato a lui si deve la diffusione in modo particolare della Via Crucis che istituì in ben 572 luoghi quindi veramente una predicazione a largo campo San Leonardo da Porto Maurizio questo è il santo di oggi allora cominciamo con la rassegna stampa e vediamo quali sono le notizie che oggi pubblicano i giornali pubblicano in modo particolare tutto quello che è avvenuto nell'ambito della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e vediamo che il simbolo di questa violenza a livello locale è senza dubbio quello di Anastasia la giovane 23enne uccisa dal marito venuta a Fano dall'Ucraina per scampare agli orrori della guerra vediamo subito il titolo sul Corriere Adriatico Anastasia, rose, rosse e rimpianti una morte emblematica mai più perché viene posta Anastasia oggi sui giornali a parte il fatto quello che è venuto ma c'è stato un fatto particolare ieri il presidente del senato Ignazio Larussa ha scelto proprio Fano per rendere onore a tutte le donne che sono state uccise dai loro compagni, dai loro mariti dai loro parenti appunti per femminicidio l'omaggio del presidente del senato Larussa in via Trieste via Trieste c'era la casa dove abitava appunto Anastasia l'impegno del Parlamento contro i femminicidi un impegno che si riferisce a nuove norme e anche ovviamente a tutto quello che serve anche come risorse economiche come sensibilizzazione per combattere questa lotta che è veramente impara insomma ormai da tanto tempo si cerca nelle scuole, nelle famiglie in tutte le istituzioni di seminare il senso del rispetto nei confronti delle donne purtroppo ancora queste cose accadono lo aveva annunciato giovedì in senato e ieri è giunto in città a Fano il presidente Ignazio Larussa la seconda carica dello Stato che nel celebrare la giornata internazionale contro la violenza delle donne ha scelto proprio Fano dove ben 13 giorni fa si è consumato l'ennesimo femminicidio vittima Anastasia Alaxeli la 23enne ucraina madre di un bimbo di due anni accoltellata dal marito dal quale si stava separando e il presidente del Senato è giunto nel primo pomeriggio di ieri in comune qui è stato ricevuto da sindaco Massimo Cero c'erano con lui tante altre autorità c'era per esempio l'onorevole Mirko Carloni la cui famiglia si è presa carico del bambino di Anastasia che ormai rimane praticamente orfano dato che il padre è in prigione e la madre non c'è più ha incontrato la madre di Anastasia che è giunta dall'Ucraina per così dopo quanto è accaduto desolata per vedere il cadavere della figlia che ieri poi è stato stopposto ad autopsia e poi c'erano, dicevo, tante altre autorità sia civili che militari dopo il comune il presidente del Senato è andato a porgere un mazzo di fiori rossi sulla porta della casa di Anastasia al Lido di Fano in via Trieste vediamo anche come riporta la notizia il resto del Carlino vediamo qui il titolo che appare ci sono due pagine pubblicate dal resto del Carlino l'abbraccio di la russa mamma Elina chi viene dalla guerra è come un fratello ha dichiarato il presidente qui vediamo appunto l'abbraccio e qui la mamma di Elina la cui foto viene pubblicata per la prima volta qui alcuni momenti appunto della visita di la russa qui con il mazzo di fiori che poi verrà deposto sull'abitazione della giovane ucraina qui Mirko Carloni con la mamma qui il momento culminante del momento di raccoglimento che c'è stato davanti alla casa e qui vediamo altre autorità la russa con il presidente della regione Acquaroli in questa fotografia uccisa con più di dieci coltellate così è stata massacrata Anastasia l'autopsia rivela ghiaccianti dettagli sull'omicidio in casa sono stati trovati un coltello poi anche un tagliarino emerge che la 23enne temeva per il figlio e aveva chiesto alla madre di prendersene cura in caso di necessità probabilmente qualcosa aveva già subodorato questa giovane mamma che era sul punto di separarsi dal marito un marito violento che ovviamente ormai aveva troncato ogni relazione ragazzina stuprata nel casolare un giovane condannato a 4 anni e ieri si è risolta davanti al giudice un caso di violenza sessuale che risale al 2021 in questo caso il modo di procedere è classico lei aveva bevuto un po' di più il giovane l'aveva accompagnata in una sua abitazione di campagna l'aveva chiesto di spogliarsi lei aveva detto di no però dopo quello che ha insistito ed è avvenuto quello che è avvenuto la giovane poi si è recata in ospedale perché si era accorta di quello che era avvenuto nel suo corpo i segni che aveva lasciato la violenza dell'uomo erano insindacabili e poi è partita la denuncia e questo giovane è stato condannato a quattro anni l'episodio risale al maggio dell'anno scorso ed ora restiamo sul resto del Carlino vediamo un pienone tira l'altro l'astronave decolla questo è il titolo che appare sul giornale in merito a tutti gli spettacoli le manifestazioni che si terranno nel Grand Palace di Pesaro stasera ci sarà Max Pezzali a febbraio Imaneskin questo concerto che ormai è stato rimandato ma viene atteso da tanto tempo e poi arriveranno che Cozzalone Renato Zero e la Vitifrigo Arena è sempre più sold out sempre più piena di pubblico e dopo tre serate ultimamente del sold out tra concerti e palacanestro l'astronave conferma di essere un punto di riferimento importante per la città di Fano sia per quanto riguarda l'immagine che poi anche per il risultato economico e poi parliamo di Natale parliamo di Natale perché ormai siamo vicini al mese di dicembre domani a Fano dovrebbe accendersi si deve accendere l'albero di Natale in piazza 20 settembre oggi pomeriggio si inaugura al Pincio il Natale che non ti aspetti e a Pesaro invece già si preannunciano 40 pullman per Candelara e poi via alle feste anche a Monbaroccio oggi scattano le iniziative e le candele richiamano subito molti visitatori veramente c'è un'aspettativa importante giungono anche i visitatori dall'America per partecipare a Candele a Candelara ma con dicembre poi sarà proprio un vero un vero e proprio boom il sindaco Petrelli il prossimo fine settimana arriveranno 50 bus da tutta Italia e anche gruppi di stranieri quindi veramente una grande aspettativa c'è voglia di un'atmosfera un po' più calda più serena per quanto riguarda quello che può proporre il Natale e il Natale appunto è l'occasione giusta passiamo ora a questa notizia che è importante perché è una famiglia che non pensa solo a se stessa ma si dedica anche agli altri la casa famiglia si allarga ma serve aiuto pronti ad accogliere altri bambini con noi si tratta di una coppia Francesco e Nicoletta che trasferiscono la loro abitazione definita chiamata la perla preziosa da Monte Santa Maria a Candelara ci mancano 45 mila euro per i lavori ha detto comunque cercheremo di realizzare questo sogno la casa che abbiamo non risulta più adeguata per la famiglia appunto formata da Francesco e Nicoletta che oltre ai loro quattro figli naturali sta ospitando anche altri tre bambini in affido nella nuova realtà in costruzione a Candelara potranno raddoppiare l'ospitalità mantenendo questo bellissimo nome che è stato dato alla abitazione la perla preziosa il comune di Pesaro compra la piscina del Pentaton mutuo da 7 milioni di euro per fare nuotare i pesaresi in parallelo il progetto del PNRR per la palestra del Centro Federale Basket quindi due strutture importanti una per il nuoto una per il basket dal Pentaton moderno al basket cambia la federazione che aveva acquisito la piscina di Via Togliati e comincia un nuovo periodo dopo più di un decennio di difficoltà per la realizzazione e il completamento e la gestione anche di un edificio sportivo di qualità intanto la proprietà passa al comune che aveva avviato l'operazione con allora presidente della federazione del Pentaton Lucio Felicita ex cifra l'ennesima asta arriva la fumata bianca venduto a 635 mila euro un blocco dell'edificio e per fortuna ha giudicata la forzione che ha la facciata sotto il ponte di Portafano in campo un'impresa edile di Urbino e vediamo anche la pagina di Fano dove si parla di un problema che un po' si dilunga per tutta la costa dopo i temporali dell'altro giorno erosione a rischio la passeggiata del Lisippo questa bella passeggiata che è stata realizzata sulla diga foranea che tutela il porto di Fano una diga che ormai è particolarmente indebolita dalle mareggiate e quello che è accaduto l'altro giorno quando il mare è veramente sopravvanzato molto rispetto alle concessioni balneari ha appunto indebolito anche la passeggiata dell'Isippo la denuncia la Lega che ieri ha tenuto una conferenza stampa proprio nella concessione dei bagni Carlo intanto il titolare Matteo Renzi annuncia se non si completano le scogliere non riesco ad aprire veramente la situazione come è stata mostrata ieri dai consiglieri comunali della Lega è veramente critica ed è problematica la replica di Fanesi proviamo rabbia tanti solleciti con la ditta fino alla diffida del settembre scorso perché i lavori sono stati assegnati ma poi la ditta che gli stava compiendo un po' gli ha interrotti poi gli ha ripresi poi gli ha interrotti di nuovo e i tempi ci sono dilungati oltre misura e qui vediamo invece una ragazza che sta facendosi onore nel campo della moda si tratta di Giulia Lucarelli 22 anni fanesi ha studiato al liceo linguistico poi l'inglese in America e il suo sogno è lavorare con Donatella Versace questa studentessa di 22 anni ha partecipato alla Fashion Graduate Italia una Kermess per i giovani talenti della moda e si sta facendo veramente onore e sta ottenendo successo a livello nazionale e qui invece vediamo una iniziativa che è stata assunta dai quattro partiti di minoranza nel comune di Fano sono la Lega i fratelli d'Italia l'Udc e Forza Italia che hanno preso di mira il problema della sicurezza dopo quanto avvenuto in Via Nolfi Via Nolfi è solo la punta di un iceberg per quanto riguarda il problema della sicurezza a Fano dove ci sono risse ci sono aggressioni c'è lo spaccio della droga ovviamente come c'è in tutte le località c'è il vandalismo ci sono le baby gangs ebbene secondo le forze di minoranza l'amministrazione comunale è stata troppo diepida nei confronti di questo problema occorre agire con più determinazione occorre rimpinguare soprattutto l'organico delle forze di polizia cosa che non sarà facile e loro insistano nei confronti dell'amministrazione comunale perché assuma più vigili urbani i vigili urbani sono in servizio fino alle ore 20 di tutti i giorni forché nei weekend dove il servizio si dilunga fino a luna di notte però insomma buona parte della notte rimane scoperta dai controlli e quindi la forza di opposizione incalzano il sindaco perché si usi una misura più decisa nei confronti di questo problema la gente vuol stare più tranquilla polizia locale serve la pattuglia di notte la richiesta è emersa nell'incontro del centrodestra sulla sicurezza dopo la rissa dei Vianolfi e le baby gang più prevenzione nelle scuole in questa sede in questo incontro sono stati interessanti i dati che ha enunciato il segretario del SIULP il sindacato di polizia Marco Lanzi in merito a tutto il territorio provinciale ma con un occhio particolare di attenzione per quanto riguarda Fano ed ora passiamo a Pergola a Pergola la Corte dei Conti ha bocciato il progetto della città delle tinte ma l'amministrazione comunale non si arrende ed ecco qua il titolo l'assessore Santelli replica dopo il parere negativo della Corte dei Conti nessun spreco ma solo un programma di sviluppo economico ha dichiarato e non bastano più le fiere e le sagre serve una filiera produttiva legata al locale ebbene in passato Pergola era veramente la città delle tinte dove si tingevano i tessuti si tingeva la lana e si era attivato un commercio importante in questo settore ed ora riportandosi a questa vecchia tradizione l'amministrazione comunale la vuole riproporre così rilanceremo museo e auditorio qui invece siamo a terre roveresche la proloco di Orciano gestirà quello della corda e del mattone e il sito di Santa Caterina già formato gruppo di volontari da una parte la città delle tinte dall'altra invece quello della corda e del mattone le amministrazioni comunali cercano di riqualificare le loro tradizioni per distinguersi nel territorio e quindi fare promozione veniamo alla pagina di Urbino all'università ci sono le elezioni Ateneo alle urne tre liste per sei dipartimenti gli schieramenti sono aumentati si vota lunedì e martedì online in corsa sono Voce e UniURB azione universitaria e universo studenti queste sono le tre forze che si confrontano le votazioni si terranno dalle 14 alle 18 di lunedì e dalle 9 alle 16 di martedì su www.uniurb.it slash vota tre le liste in corsa stavolta Voce UniURB si aggiunge ad azione universitaria studenti fuori sede e universo studenti candidati programmi e dettagli sono appunto sul sito di cui ho appena detto e poi vediamo il consigliere regionale Rossi che parla del consorzio di bonifica e ovviamente avanza anche delle critiche perché quanto fatto dal consorzio di bonifica in merito alla prevenzione sulla cura di corsi d'acqua non è certo edificante ancora polemiche dunque sul taglio del nastro nella sede del consorzio una nuova sede che si è inaugurata a Pesaro è vergognoso ha detto Rossi che il consorzio di bonifica a poco più di due mesi dall'alluvione che ha colpito il nostro territorio in modo particolare Cantiano inauguri in pompa magna una nuova mega sede e parli pure di prevenzione quella che da parte di questo ente è mancata anche in molti luoghi colpiti proprio dall'alluvione quella la prevenzione la cura e la manutenzione dei corsi d'acqua la pulizia del letto lo sgombro della vegetazione cosa che non c'è stata e anche per quanto riguarda Fano si teme che qualcosa capiti all'Arzilla se non si corre presto ai ripari ed ora apriamo invece il Corriere Adriatico abbiamo visto le prime pagina dedicata ad Anastasia rose rosse rimpianti una morte emblematica mai più l'omaggio del presidente del senato la russa in via Trieste l'impegno del Parlamento contro i femminicidi qua invece vediamo la conferenza stampa della Lega in merito all'erosione che si è svolta nella spiaggia di Sassonia la giunta seri e inefficace questa è la critica che è stata avanzata all'amministrazione comunale attacco della Lega dopo l'ultima maleggiata un contenzioso con la ditta incaricata ditta appunto che interviene poi va via poi interviene ancora insomma veramente una ditta che non si è mostrata come il massimo della affidabilità giriamo la pagina e vediamo qui si parla invece dell'incontro sulla sicurezza che si è svolto giovedì sera nel Alpino Bar sicurezza c'è un'emergenza a Fano polizia locale impiegata poco e male il centrodestra segnale retroscena pericolosi delle risse il SIULP elenca le carenze del personale ebbene ci sono carenze un po' dappertutto non solo non si raggiunge l'organico che dovrebbe essere definito vuoi per il commissariato vuoi per la polizia stradale vuoi per la questura di Pesaro ma addirittura molti degli agenti in servizio che poi vengono impiegati non in questioni di ordine pubblico di inchieste di volante voglio dire ma anche per i passaporti per i permessi di soggiorno insomma per compiti burocratici che succhiano molte molte diciamo così molti operatori molti agenti che potrebbero invece essere impegnati in altri compiti più importanti e questi compiti burocratici potrebbero essere così assolti da impiegati civili cosa invece non avviene e dicevo anche per quanto riguarda il problema della polizia locale nonostante che siano stati assunti degli agenti a tempo indeterminato proprio in quest'ultimo periodo ebbene l'organico è insufficiente per assicurare un servizio di controllo del territorio per tutta la notte perché di notte insomma gira solo una volante il che è molto molto poco il magico natale per stare bene insieme qui si parla di un mese di appuntamenti a Fossombrone la proloquo aggrega 20 associazioni si tratta del magico natale a Fossombrone il natale delle meraviglie che comincia sabato 3 dicembre con tante tante iniziative a Cantiano questa cittadina martoriata dall'alluvione dal temporale dalla tempesta che si è scatenata non molto tempo fa siamo appunto qualche qualche decine di giorni fa oltre 120 milioni di danni in due comuni non solo a Cantiano ma anche a Serra Sant'Abbondio i fondi decisi dal governo non bastano più la preoccupazione del sindaco Piccini che aggiorna le stime sia per il suo paese che per Serra Sant'Abbondio la notizia dello stanziamento del governo di 200 milioni ed altri 200 della finanziaria 400 milioni in tutto rinfranca un po' gli amministratori locali ma non sono sufficienti perché ogni giorno che passa vengono evidenziati ancora danni che sono stati fatti nel corso di quella terribile notte quando il Burano quando il Nevola quando il Misa hanno così superato gli argini e hanno dilagato hanno riversato tanto tanto fango in tutte le località in tutti i centri abitati vediamo la pagina di Senigallia abbiamo un incidente stradale particolarmente grave che si è verificato nella giornata di ieri una macchina ha perso il controllo della strada è andata a schiantarsi contro un muretto laterale dove stava passeggiando un 84enne un 84enne che è stato colpito schiacciato tra il muso anteriore appunto dell'auto e il muretto stesso è stato travolto e ha dovuto subire l'amputazione di un arto quindi veramente un danno molto molto grave l'uomo stava camminando tranquillamente sopra il marciapiede quando una Jungai fuori controllo dopo uno scontro frontale con una Volkswagen lo ha travolto e schiacciato appunto contro il muretto è stato necessario poi l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo tramite particolari attrezzature addirittura purtroppo sono state riscontrate delle gravi lesioni agli arti inferiori di questo uomo sfortunato vediamo anche altre notizie che riguardano Pesaro sul corriere adriatico si parla di via Curiel dove è in atto un restyling un restyling che verrà condotto a tappe e senza chiusure i lavori partiranno dopo le feste appaltato il cantiere e anche via Passeri sarà oggetto di un intervento che verrà suddiviso in più fasi riqualificata a Piazza del Popolo dove è stata fatta lo sapete ormai la pavimentazione con un bel disegno che ripropone quello esistente l'amministrazione comunale di Pesaro passa ora al rifacimento di via Curiel si tratta di un appalto importante per circa 200.000 euro che il servizio lavori pubblici spera di avviare intorno alla prima decada di gennaio quindi all'inizio del prossimo anno invece ha fatto un po' un flop il bando per riaprire i negozi sfitti solo una richiesta è saltata è emessa e quindi questo bando insomma è stato praticamente annullato era un bando rivolto a giovani e alle donne che avessero riaperto dei negozi chiusi in centro storico la cosa però è tramontata e vediamo come la domenica sarà il giorno dedicato alla bomba a case bruciate chiusa l'autostrada e la Montefeltro le disposizioni della prefettura per lo sgombero del 4 dicembre il comune fa il volantinaggio domenica non domenica questa domenica l'altra ci sarà questo sgombero di tutta la popolazione per quanto riguarda lo sminamento di questa bomba e concludiamo la nostra rassegna stampa con delle notizie di sport vediamo che le squadre si apprestano a sostenere degli incontri importanti parlo del calcio parlo della visse parlo del fano calcio è in tela fortissima ma la visse può fare bene è il titolo che appare sul resto del Carlino il manager il trainer Sassarini sulla partita di oggi alle 17.30 Chiavari contro una pretendente alla serie B quindi una partita importante aggredire per creare opportunità da rete ha detto l'allenatore mentre il fano si appresta a confrontarsi con la Samb il grande assente per infortunio è Lulli e quindi dovrà non dovrà non riuscirà a partecipare a questa gara in dubbio è anche chi nel lato i sostenitori Granata sono tutti mobilitati e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto